Io prendo spunto da quello che ho sentito venendo qui a Palazzo Valentini, un signore diceva leggendo i nostri cartelli fuori la mafia da Roma, diceva allora si svuota Roma, noi dobbiamo partire proprio da lì perché la colpa di quello che sta accadendo è di tutti noi cittadini che abbiamo fatto poco o nulla perché siamo in un certo qual modo tutti conniventi, tutti sappiamo, tutti conosciamo e tanto diciamo tutti funziona così, noi vogliamo che quel funziona così smetta, noi abbiamo avuto una presa d'atto di quello che è successo, noi in quarto municipio per esempio vorremmo capire un po' i locali di via Pomona o quello che succede via Visto nel centro di accoglienza, nei centri di accoglienza di Bortino Terzo, vorremmo un po' capire tante cose, noi vogliamo innanzitutto però che si svegliano i cittadini, i cittadini che non mollino l'attenzione, che restino sul pezzo e che siano sempre concentrati perché è della loro vita che qui si gioca, perché i servizi sociali vanno a colpire dove c'è bisogno, dove necessitano i bambini, i disabili, gli anziani, le persone più fragili, allora noi dobbiamo stare attenti e vogliamo che nessuno dimentichi, grazie.